Ehi, chi ha ritagliato il mio giornale? Pronto? Ciao, Lenny! No, perché dovrebbe servirmi il passaggio? Alla grande cosa annuale! Ah, beh, se fosse una cosa così grande annuale, sono sicuro che il giornale ne avrebbe parlato. Già, è il pomeriggio di un giorno da cane pezzolante, sì. C'è qualcosa che non mi sconfinfera. Ho bisogno di aria fresca. Che profumo! Cipolle, polvere di cili, cumino, manzo macinato e cili! Non mi sono perso la gara culinaria di cili! Ehi, chi ha ritagliato un pezzo del mio giornale? Pronto? Oh, ciao, Lenny! No, perché dovrebbe servirmi un passaggio nel pomeriggio? Dove? Alla grande cosa annuale! Ah, beh, se fosse una cosa così grande d'annuale, sono sicuro che il giornale ne avrebbe parlato. Già, è il pomeriggio di un giorno da cane pezzolante. Ma c'è qualcosa che non mi sconfinfera. Mi serve una boccata d'aria fresca. Che cos'è questo profumino? Cipolle, polvere di cili, cumino, succuletto manzo macinato e cili! Oh mio Dio, mi sono perso la gara culinaria di cili!